Dottore Alberto Piatti, oculista ambulatoriale, consigliere di GOL. Quanto è importante l'innovazione tecnologica e come è soprattutto importante nella gestione delle patologie retiniche? La gestione delle patologie retiniche e la strumentazione è molto importante e l'innovazione tecnologica della strumentazione che noi utilizziamo va di pari passo con l'innovazione tecnologica che segue tutta la scienza medica di questi ultimi anni. Ho riproposto in questo mio intervento di oggi alcuni aspetti che seguo ormai da diverso tempo che riguardano soprattutto lo screening della retinopatia diabetica che facciamo in modo sempre più digitale, sempre più automatizzato. La novità importante che è stata presentata è l'innovazione legata all'intelligenza artificiale che è un sistema che consente di sviluppare un ottimo rapporto costo-benefici. Cambia anche la professione dell'oculista ambulatoriale con questa innovazione tecnologica? È necessario quindi associarsi a realtà come la vostra per un continuo avanzamento anche professionale, un aggiornamento continuo? Senz'altro. L'oculista ambulatoriale deve essere un attore principale e importante nell'innovazione tecnologica, così come tutti gli oculisti, compresi gli ospedalieri, gli universitari. Per quanto riguarda lo screening è un aspetto peculiare dell'attività dell'oculista ambulatoriale, per cui deve essere l'oculista ambulatoriale attore e governatore dello screening e di tutti i processi di medicina digitale a distanza che sottostanno allo screening della retinopatia diabetica. Con l'allungamento della vita a livello europeo le patologie retiniche sono in aumento? Le patologie retiniche sono molto in aumento, sempre per quanto riguarda la retinopatia diabetica, è in aumento molto la vita media dei pazienti diabetici, perché se 15-20 anni fa la vita media dei pazienti diabetici era intorno ai 70 anni, oggi la vita media di un paziente diabetico può superare anche gli 80 anni, per cui sono in forte aumento tutte le patologie retiniche e anche le patologie retiniche dovute alle complicanze del diabete. Il diabete lo si cura bene, però la lunga durata della malattia predispone comunque all'insorgenza di complicanze a livello oculare.